Cosa devi fare quando ti senti perso? Questo tema è molto interessante perché può capitare alle persone che ad un certo punto vivono una crisi di identità profonda e decidono di cambiare la loro vita perché si sono accorte che il modello standard che viene imposto, quello di produrre, consumare, essere dei cittadini modello perfetti, seguire perfettamente le regole scritte e non scritte che la società in qualche modo impone, legalmente ma anche psicologicamente. Ecco, vogliono uscire da questa bolla, vogliono vivere una vita diversa, cambiare, essere più liberi, è abbastanza comune sentirsi persi, non capire quale direzione intraprendere, se le cose andranno bene, se le cose andranno male, avere paura, sentirsi in qualche modo smarriti. Ecco, in questa fase è molto importante affrontare la situazione psicologicamente parlando nel modo più corretto possibile. Allora, qual è questo modo? Dunque, la prima cosa che devi comprendere quando ti senti perso è che questa condizione di smarrimento è assolutamente normale. Cioè, se fino a questo momento hai vissuto di certezze, sei certamente vissuto all'interno di un ambiente di, in qualche modo, illusione, di menzogne. Perché la vita non è fatta di certezze, la vita è fatta di incertezze. Perché cambia tutto, da un momento all'altro, l'essere stazionari, l'essere sempre uguale a se stessi, sperare che le cose non cambino mai, pensare che tutto resterà sempre uguale, che non ci saranno scossoni, che non ci saranno grandi cambiamenti, che si andrà avanti così per sempre, è una mera illusione. Noi viviamo in un mondo che è in continuo cambiamento. E quindi, prima di tutto, bisogna comprendere che è assolutamente normale, che ad un certo punto delle nostre vite possono accadere dei fatti che le stravolgono. Magari in misura minore o in misura maggiore. Non dico che sia semplice da affrontare questo cambiamento, perché è assolutamente destabilizzante per le persone, soprattutto se hanno vissuto una vita estremamente standard, no? Cioè, facendo... Oh, una lucerta molto grossa è passata. E mi ha un po' spaventato, sembrava quasi un serpente. Soprattutto se hanno vissuto una vita molto standard, molto simile a quella di tutti gli altri, no? Una vita fotocopia, diciamo, ecco, identica a quella di tutte le altre persone. È facile cadere nell'illusione che le cose andranno sempre così, che sarà tutto sempre stabile, uguale a se stesso, che non ci saranno problemi, ma la vita non è così, no? E quindi la prima cosa da comprendere è semplicemente che si è vissuto nell'illusione, nell'illusione che le cose fossero esattamente come le stavi immaginando. Ma in realtà, la realtà è molto diversa da come la percepiamo. Dietro alle persone si nascondono volti, figure, personaggi che non immaginiamo. Anche le persone che ci stanno accanto, alle volte si rivelano molto diverse da come immaginavamo. E la stessa cosa vale per il nostro lavoro. Credevamo fosse in un modo e invece è in un altro. E per gli studi. Credevamo che studiando saremmo arrivati a ottenere una certa cosa, e invece non è così. Insomma, si vive all'interno di un'illusione di stabilità, di certezze, che però appunto è falsa. Dunque, la prima cosa è rendersi conto che tutti vivono questa condizione, prima o poi. Sono solo pochissimi fortunati che nella vita non in qualche modo inciampano in importanti cambiamenti. e già questo ti aiuta a renderti conto che è così un po' per tutti, ecco. E non sei sbagliato, hai fatto qualcosa di sbagliato, o le cose sono andate male perché c'è la sfortuna, eccetera. È normale che ci siano grossi cambiamenti nella vita, ed è normale che quando questi intercorrono, ma anche semplicemente mentali, non solo cambiamenti fisici o ambientali, ci si senta persi. Quindi abbracciare questa instabilità come la normalità nella vita. Ecco, il secondo passo per affrontare bene questo tipo di situazione, avvenimento, quando ci si sente persi, è utilizzarlo come un'arma e non subirlo. Cioè la maggior parte delle persone, quando si trovano in condizioni di difficoltà, non fanno altro che lamentarsi. E quanto sono sfortunato e perché capita proprio a me. E poi vanno dall'amica a sfogarsi, dall'amico a sfogarsi, e poi provano qualsiasi soluzione, vanno anche dallo psicologo o dallo psichiatra, alle volte in certi casi. In qualche modo vorrebbero provare a trovare una giustificazione, trovare qualcuno che spieghi a loro perché le cose ci sono andate in questo modo, e trovare un po' di sicurezza, magari anche un po' di consolazione, nel sentirsi dire che non è colpa tua, che le cose vanno così, eccetera. Ecco, questo serve fino a un certo punto. Quello che in realtà poi serve quando si affronta un momento di incertezza è agire, cioè usare questa incertezza come un banco di prova, come soprattutto un percorso di studio. Cioè, una volta che mi trovo di fronte ad una decisione, a dover prendere una decisione, quindi sono in difficoltà, sono incerto, non so dove andrò a finire, non vedo un futuro, devo fare delle scelte, ecco che è quello il momento nel quale ha molto senso mettersi a studiare, per cercare di capire molto bene quale decisione porta in quale direzione, quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, rendersi conto che non ci sarà una decisione perfetta, che una buona parte di quello che in qualche modo deciderai di fare e quello che accadrà, soprattutto, è legato al caso e quindi puoi controllare fino a un certo punto quello che può accadere, dopodiché un certo margine di incertezza lo devi sempre tenere in considerazione, un margine di imprevedibilità, ecco. per usare un termine più corretto e quindi abbracciare ancora una volta il fatto che viviamo una vita che è tutt'altro che stabile, tutt'altro che sempre uguale a se stessa, anche se vorremmo che fosse così. Terzo passo, rendersi conto che non c'è nessuna fretta, cioè nella maggior parte dei casi le persone, quando si trovano in uno stato di incertezza, si trovano anche in uno stato di ansia perché vorrebbero mettere le cose a posto molto rapidamente. Ecco, invece bisogna rendersi conto che si può vivere nell'incertezza, non c'è bisogno di sistemare tutto rapidamente, anche perché quando si cerca di mettere una topa o in qualche modo si cerca di sistemare le cose in maniera veloce, spesso si fanno più guai che trovare soluzioni, quindi si peggiora la propria condizione e quindi affrontare tutto con estrema tranquillità, con estrema calma, cioè il futuro arriva lo stesso, che noi prendiamo una decisione, che non la prendiamo, che la prendiamo velocemente, che la prendiamo lentamente, ad un certo punto il futuro arriva e guarda te, guarda un po', in qualche modo ce la si fa sempre, alle volte si è solo molto più spaventati dell'idea di quello che accadrà e poi quando ci si ritrova all'interno di una situazione ci si rende conto che poi non era così spaventosa, non era così strana, non era così difficile da affrontare, quindi prendersi tutto il tempo di riflettere con calma sulle decisioni da prendere, la direzione da intraprendere, le scelte da in qualche modo sposare e quelle da scartare e con buona pace di tutti, anche delle persone che ti mettono pressione perché alle volte ci si trova in un momento di incertezza anche perché sono gli altri esternamente che cercano di spingerci a prendere una direzione e una decisione e facendolo in maniera troppo veloce e senza riflettere si rischia appunto di sbagliare e quindi prendersi tutto il tempo necessario per operare la decisione giusta. Alle volte le cose cambiano anche senza che tu debba per forza intervenire, alle volte è l'ambiente esterno che cambia e quindi ti preclude certe direzioni a prescindere oppure ti fa vedere delle situazioni diverse che non hai riuscito a cogliere oppure ancora una volta ti dà una terza soluzione, una terza via perché certi contesti sono cambiati, certe cose sono mutate, certe persone anche sono arrivate, sparite nella tua vita eccetera e quindi molto spesso aspettare è un modo per lasciare che sia la natura, diciamo ecco, la vita a, non dico a decidere per te, ma a darti ulteriori soluzioni, questo è molto importante. Ecco, l'ultimo punto che poi si ricollega al primo è rendersi conto che si può anche restare in un momento di incertezza, cioè non è per forza necessario trovare una soluzione quando non si sa cosa scegliere, alle volte si può anche rimanere nell'indecisione. Noi veniamo da una società dove ci hanno convinti che per forza bisogna essere una cosa, un lavoro, un ruolo, una figura, prendere una direzione, avere un'idea precisa, essere sempre coerenti con quell'idea e quindi essere in qualche modo una cosa, ma noi possiamo anche essere tante cose e molto spesso la nostra incertezza è legata proprio a questo, al dover prendere una decisione, ma qualche volta non ci si rende conto che magari non c'è nemmeno bisogno di prendere una decisione, tu puoi essere anche due figure contemporaneamente, puoi fare due cose che sono una all'opposto dell'altra, la coerenza tutto sommato è qualcosa che lascerei a chi parla più di utopia che di realtà, perché la coerenza, tu sei coerente con quello che pensavi quando avevi 18 anni e adesso non hai 50, ovviamente no, e quindi sei un incoerente, no, sei cambiato, sei maturato, hai cambiato semplicemente idea, direzione, è normale non essere coerenti, lasciate stare quelli che vi dicono che la coerenza è un valore fondamentale, quindi si può anche essere duali, si può anche essere trini, si dice, non lo so, nel senso che alle volte si può anche restare nell'incertezza, si può anche decidere di calpestare, seguire due sentieri parallelamente e vedere dove ci portano, è così, non c'è per forza bisogno di scegliere e alle volte, anche se può sembrare banale, non ci rendiamo conto di questo, e per forza trovare una direzione, ma magari la scelta migliore è quella di non agire, non prendere nessuna decisione e vedere come vanno le cose e pestare due sentieri differenti, paralleli, o anche che portano in due direzioni opposte. Ecco, questo mi andava di sottolinearlo qui dalle riflessioni dal bosco, perché secondo me è un tema importante, è un tema che riguarda tutti, prima o poi e alle volte sapere che è normale che tutti quanti ci troviamo in momenti di incertezza e che nessuno ha come dire la bacchetta magica per risolvere le questioni, nessuno sta sempre bene, nessuno è sempre in equilibrio e nessuno sa sempre cosa fare, ecco, ci rende tutti un po' più umani e in parte anche ci consola.